Ma questo crossfader ci serve o non ci serve? Ciao sono Claude e andiamo a vedere se questo crossfader in realtà ci può servire oppure è d'intralcio e va tolto perché ci crea dei problemi come usarlo, se usarlo, quando usarlo o toglierlo se proprio ci dà fastidio andiamo Eccoci qua pronti con l'esordio dell'S4MK3 su SOS4DG dico esordio perché è la prima volta che lo vediamo per spiegare il crossfader ho pensato che insomma con l'S4 si potesse vedere molto meglio e lo vedete qua in tutte e due le situazioni con live ovviamente in questo caso abbiamo quattro lettori il crossfade è in questo caso sotto la barra dei lettori e abbiamo ABCD per vederlo se non l'avete selezionato dovete andare sulle impostazioni e su mixer vedrete che crossfader adesso lo vedrete sparire qua c'è, qua non c'è per mostrarlo nel mixer interno ce lo avete in questo modo adesso che noi l'abbiamo visualizzato possiamo vedere che i due lettori attivi sono l'A e il B quindi anzitutto devo dire una cosa perché molti di voi anche io che non uso il crossfader ne faccio un uso veramente ristretto spesso mi sono picchiato così dire con questa funzione perché non essendo aperta su tanti layout quindi se non la vedete questo è inserito e magari quando la traccia è aperta e il cursore è tutto a sinistra impazzite perché non si sente niente in questo caso dico subito di togliere la A e B luminoso così in tutti e due casi voi ascolterete la musica sia sul canale A che sul canale B senza restrizione quindi non usatelo se invece volete usarlo dovete selezionare con questi due lettori A e B e muovervi a sinistra e a destra queste freccette servono a muovere il crossfader alla sinistra e alla destra per fare delle transizioni fra i due lettori mentre questo fa un auto fade verso destra quindi cliccando su questo bottone ci permette di muovere automaticamente il fader verso destra e vedete eccolo qua e questo ovviamente verso sinistra se volete fare delle transizioni dubito che questo possa servire però insomma è giusto anche dire le funzioni che ci sono perché molto spesso ci domandiamo a che serve questo bottoncino e via quindi ricapitolando A e B se non lo volete se volete essere liberi di passare da qualsiasi lettore perché accidentalmente magari lo tocchiamo e noi stiamo mixando regolarmente con i cursori e ci si chiude un canale e non capiamo lì per lì magari ora mentre fredda lo sappiamo mentre siamo in serata va sicuro che potete andare nel panico quindi disattivare A e B se non lo vedete vi faccio rivedere come fare andare qua su mixer crossfader voi magari arrivate da una situazione di questo tipo lo visualizzate un attimo deselezionate e poi se non vi serve più potete anche chiuderlo così guadagnate spazio per tutto quello che riguarda la sezione playlist e la sezione preferiti ma noi torniamo a visualizzarlo come detto questo ci può aiutare anche a fare delle transizioni col crossfader come vedete tutto a sinistra adesso io lo attivo faccio partire questa traccia andando indietro dall'inizio vedete e poi mano a mano qui tutta una metà ci potete anche fare dei giochi insomma un po' sta a voi alla vostra creatività alla vostra fantasia come giocare con il fader io vi consiglio se non lo usate di tenerlo a metà e ovviamente di disattivarlo come detto prima mentre se invece non vi basta e volete lavorare a 4 deck potete andare qua sull'opzione delle impostazioni e selezionare dove su decks layout selezionare 4 deck eccoci adesso vedete l'interfaccia con le 4 deck dove metteremo altre 2 e il crossfader può essere fatto tipo fra la A e la D o la B e la C insomma potete scegliere tutto quello che vogliamo facciamo ora fra la A e la D quindi seleziona adesso dall'altro lettore il lettore D dall'altro canale vedete sono tutto a sinistra questo è il canale D e adesso vado col vado col canale A bene piccoli giochetti per farvi capire la funzionalità questo può essere switchato con più canali anche con tutti però così veramente andate nella pazzia più totale vi consiglio di farne uno a sinistra uno a destra a meno che non vogliate pilotare più deck contemporaneamente detto questo abbiamo svelato anche il mistero del crossfade per capire se ci serve o non ci serve fatecelo capire inoltre per coloro che volessero approfondire tutte queste tematiche anche parlarne con il sottoscritto in maniera più dettagliata potete contattarmi e fare delle consulenze private anche online oppure dei veri e propri corsi DJ e corsi di produzione musicale al sito corsidjproducer.com ecco qua il nostro canale youtube SOS4DJ dove io vi chiedo sempre di iscrivervi mi raccomando la vostra iscrizione è importante per farci crescere ma soprattutto per far crescere voi per darvi sempre più cose più nozioni più informazioni nel settore che vi aiutino a crescere con tutti questi programmi attivate la campanella per essere sempre avvisati in anteprima dei nuovi contenuti e mettete un bel like che a noi fa piacere per noi è importante che ci facciate capire che siete lì e ci motivate sempre a creare nuovi contenuti bene è spiegato anche il mistero del crossfade come utilizzarlo se utilizzarlo mi raccomando fate un po' di prove perché non è detto che la tecnica base di mixaggio con i cursori possa essere la migliore questo come dico sempre io la tecnica migliore è quella che ci fa fare le cose migliori è quella che è più congeniale a noi stessi quindi provate perché magari potrebbe essere che scoprite un mondo nuovo e iniziate un nuovo percorso bene adesso S4DJ e Claude vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo al prossimo tutorial ciao